Al comunale Serenella Bagioni si affrontano Pievese e Dorvietana. Entrambe le squadre sono appaiate al penultimo posto in classifica con 5 punti e la vittoria oggi è davvero fondamentale. Mister Talli si affida ai 3 trequartisti Don Garramme, Togli e Graziano per servire il terminale offensivo Cacciamano. Risponde Fiorucci al ritorno da ex a Città della Pieve che schiara i suoi con il 4-3-3, puntando sul tridente Missaia per Quoti Polidori. Prime fasi di gioco con le squadre un po' contratte, vista anche l'alta posta in palio. Ci prova però la Pievese al 14esimo, sul disimpegno sbagliato di Mosconi Cacciamano vede Sganappa fuori dai pali, ma il lob è debole e il numero 1 dell'Orvietana fa in tempo a tornare tra i pali per bloccare la sfera. Al 40esimo ancora la Pievese è pericolosa, cross di Parretti dalla destra, la palla arriva sul secondo palo, ci prova Vitali da due passi ma la sua conclusione termina alta. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0 senza grandi emozioni. Ripresa però che inizia subito con un altro piglio. Episodio da Moviola al settimo minuto. Sul cross di Parretti Cacciamano anticipa Annibaldi che lo butta giù. Il direttore di gara indica il dischetto, ma il guardalina la bandierina alzata. Fuori gioco ed episodio da rivedere. Al 16esimo ancora Pievese. Filtrante perfetto di Vitali per Don Garrà. Il numero 11 Pievese si infila bene nello spazio ma il tiro a botta sicura è sporcato dall'ottima chiusura di Annibaldi. Mister Fiorucci vede i suoi un po' in difficoltà ed inserisce Liurni passando al 4-2-3-1. Questa mossa sarà fondamentale per l'esito finale della gara. Gli ospiti quindi si fanno vedere già al 34esimo minuto. Palla che entra in area con un cross da sinistra di Mosconi. Dopo un po' di batti e ribatti si ritrova la sfera tra i piedi Missaia ma il suo destro non è preciso. Al 37esimo arriva il gol che decide la gara. Missaia porta palla sulla tre quarti e pesca con un assist delizioso Liurni. Il neo entrato trova complice la deviazione di Canuti l'angolo giusto e mette la palla alle spalle di De Vincenzi. La Pievese accusa il colpo ma potrebbe comunque pareggiare i conti al 47esimo della ripresa. Punizione battuta da Vitali. Canuti rimette al centro. Graziani ci prova di testa ma il tiro è facile preda di sganappa. Triplice fischio del signor Maccarini dopo 4 di recupero con l'Orvietana che festeggia tre importantissimi punti per la zona salvezza. Pievese che resta adesso sola al penultimo posto. Siamo con mister Fiorucci tecnico dell'Orvietana. Un ritorno da ex qui a Città della Pieve mister con una partita difficile iniziata con le due squadre un po' contratte forse un po' di paura di perdere. Alla fine sono arrivati i tre punti. Erano quelli che contavano oggi? Sì, è stata una partita magari da 0 a 0 sinceramente. Due squadre che sono date battaglie. Magari a livello estetico non si è vista una gran partita ma a livello di, diciamo per quelli più pratici, a livello di battaglia le squadre sono andate tutte. Noi dovevamo fare quattro punti sulle partite e domenica abbiamo perso i tre. Non che l'Eller l'avesse rubata però noi abbiamo sbagliato l'impossibile quindi oggi è andata bene mi sono contentissimo dei tre punti della squadra che al di là, ripeto, è una partita un po' così, diciamo però non hanno mollato mai è quello che mi interessava perché fino a venti giorni fa eravamo per certi versi delle vittime sacrificali. Mister Talli, tecnico della Pievece è una partita brutta dal punto di vista tecnico forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio la Pievece che il secondo tempo però sembrava crederci di più e nel momento migliore è arrivato il gol dell'Orvietana. Diciamo che è stata una partita molto intensa anche da un punto di vista agonistico una partita molto tirata perché comunque sia c'erano in palio punti importanti sì, come hai detto te il secondo tempo sembrava che potessimo fare noi qualcosina più di loro ci abbiamo comunque sia creduto abbiamo messo la voglia, l'impegno e nel momento in cui abbiamo avuto quell'episodio non lo so, in cui l'arbitro ci ha segnato il calcio di rigore poi dopo il guardalini ha detto che era fuori gioco però ecco nel momento nostro probabilmente migliore abbiamo uscito questo gol una deviazione sfortunata la palla è andata dentro e questo è il calcio è andata dentro la palla è andata dentro